27 novembre Ora vi mostro fuori dalla casa dove vivo Ah ovviamente la porta senza serratura Perché Qua non si usano le serrature, cancelli, zero Eh tipo, questa è la parte dell'incubo Tipo film horror Piscina Grill Tutto intorno a me Io dormo in quella stanza lì Living room Piscina dal film dell'orrore Ho chiesto al tipo, la piscina la uso per raccogliere l'acqua piovana Ah perché qua la doccia si fa con l'acqua piovana Cioè ci sono due sergenti per l'uso per il vino Ah la doccia con l'acqua piovana Parabola Puttosca da fascio Ora vi mostro dove lavoro Siamo a casa stile vero stile australiano Usiamo da Dove stendere? Garage Ponderia dove c'è una lavatrice funzionante Che funziona con l'acqua piovana L'acqua però che spente La cantina La piccola tenuta proprio Qua è il dog wine di La grattagnana Meggia Questa è la veduta Che sia parte del vigneto che hanno Alpaca Non so perché Però Ha tre alpaca Tutte cose lì Che domenica metto liciose Infatti oggi poco gentile Tipo Vi ha ferito lavorare alle quattro Se la veduta Se la fa Un po' mezza Toscana Un po' mezza Un po' mezza Una settimana Poi Vediamo In giro per la tenuta qua In macchina ovviamente Perché è un po' lunga Per di sera barbecue Però vi metto quella telecamera Per cui Vi mostro Il mio cappoccia Il mio cappoccia Molto amico Molto freddo Molto freddo E molto leazy Al solito Qui è ventoso Ma io sono come Praticamente Tonks Per il mio figlio Ecco Ehm Tipo Quella è il nostro progettino Sta arrivando per oggi è tutto, vi saluto, domani vado a lavorare, adesso mi preparo la cena, salmone perché ci ha regalato la bottiglia di vino bianco che ora berremo e vi saluto, ci vediamo presto, ci sentiamo presto, vediamo o non lo so, ciao!